Buongiorno, oggi nuovo vlog sempre con il cagnolino annesso qua sotto. Vedete un casino perché come potete notare sono finalmente tornata in camera però ieri ho passato tipo tutto il giorno a togliere gli scatoloni e rimettere a posto naturalmente le cose e poi sto cercando di rimanere in questo spazio perché non voglio darvi troppe preview della camera nuova perché poi devo girarvi il room tour e non avrebbe senso. Lasciamo quest'angolo e adesso sto mettendo a posto praticamente la cassettiera della scrivania nuova quindi sto sistemando un po' le cose elettroniche, quello che riguarda i video, schedine SD, queste confezioni del telefono cioè insomma di tutto e di più, ho ritrovato anche la RISC fortunatamente e poi qui ci sono le cose che ho comprato ieri da Ikea che dobbiamo ancora attaccare lo specchio, quello con le luci da camerino, le luci sarebbero queste qua, si chiamano music queste qui sono quelle più fini perché poi ci sono anche quelle più tozze ma era davvero troppo e poi lì dietro come vedete c'è lo specchio che andrà poi qua per fare la mia toilettina personale ieri mi è arrivato il letto che era l'ultima cosa per quanto riguarda i mobili diciamo che praticamente per l'80% è finita, mancano quei dettagli insomma specchi attaccati, quadri il comodino devo andarlo a comprare perché naturalmente prima non ce l'avevo e quindi devo andarlo a comprare sono molto felice di come è venuta, mancano anche le mensole per tutti i miei Funko Pop li ho appena contati e ad oggi che è il, che giorno è oggi? Domenica 21 forse, no infatti è domenica 22 sono 41 Funko Pop e me ne devono arrivare tipo tantissimi quindi insomma non so quante mensole dovrò comprare, dovrò comprarne un bel po' l'armadio l'ho già messo a posto, magari io vi sto raccontando tutta sta roba e non ve ne frega niente però va bene, vi sto raccontando il mio inizio giornata e anche un po' quello di ieri e è stato super stancante, ho dovuto tirare fuori tutto e poi mano a mano mettere nei cassetti quindi non ho avuto neanche il tempo di organizzarmi bene le cose infatti poi nei prossimi giorni le andrò a sistemare molto meglio, per ora ho tipo sparso soprattutto le cose dei trucchi le ho sparsi in tutti i 18 cassetti che ci sono nelle, perché ho preso due Alex di quelle alte e quindi ho sparso tipo davvero qualsiasi cosa, cioè ci ho proprio buttato dentro le cose neanche in ordine e cercherò di metterle a posto tra l'altro oggi pomeriggio devo andare al cinema, cioè questa cosa è già appurata perché praticamente l'altro giorno mio padre dal nulla mi fa voglio andare a vedere It e io tipo cosa? Cioè tu che sei un fifone ti cavi sotto anche se vedi non lo so passare un'ombra e vai a vedere questo film? Sì ragazzi a quanto pare è così quindi io l'accompagno perché non è che i film horror siano tra i miei preferiti però neanche mi fanno schifo e sinceramente da sola non ci andrei mai a vedere un film horror soprattutto al cinema, vedremo, è un'esperienza un po' mistica quindi vi porterò con me e poi appunto devo cercare di mettere a posto soprattutto la cassettiera perché poi questa settimana devo partire, devo andare un giorno, due giorni insomma a Milano perché c'è un evento, sicuramente vi porterò perché è un evento NYX quindi insomma dovete esserci a tema Halloween e infatti riguardo questo tra un po' mi devo anche truccare e registrare il video haul perché lì sul letto c'ho tipo la pila di cose accumulate in questi giorni in cui non sono stata in camera quindi ho avuto modo di metterli tutte le cose, non dico che non le ho aperte ma praticamente sono rimaste lì cioè ho visto cosa c'era e poi ho richiuso quindi voglio tirarvi un bel video try on haul, tipo di quelli enormi, giganterrimi infatti appunto devo anche truccarmi quindi adesso faccio queste cose, metto a posto, mi trucco, faccio il video, vediamo dopo cosa fare anche perché è mezzogiorno e tra un po' prima di girare il video sicuramente pranzerò con il sushi naturalmente rimasto da ieri sera, che è proprio di caffare allora come potete vedere mi sono truccata, è tipo una settimana esatta che non mi trucco e quindi ho preso così le prime cose che ho trovato perché come vi ho detto prima è un casino la cassettiera quindi ci ho messo un po' a trovare anche le tinte, ho preso la prima che mi capitava adesso ho preparato tutte quante le cose, così finalmente posso girare il video haul ho già mangiato, quindi insomma sono tranquilla tra l'altro state vedendo la mia parete glitterosa video girato, ho rimeso tutto a posto e poi mi sono ricordata che è un try on haul e quindi devo ritrovare tutte le cose che adesso ho messo a posto e domani girerò le clip indossate perché le devo preparare, devo andare e non faccio in tempo a girarle e quindi insomma farò tutto quanto domani sperando di riuscire anche a poi caricarlo insomma adesso il fatto è che naturalmente mi lascerò questo rossettino che ho messo prima e quindi penso che mi vestirò di nero ha piovuto tantissimo quindi ha rinfrescato tanto 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 non penso addirittura da mettermi il cappotto però comunque sia mi metterò penso una felpa abbastanza pesantina adesso vedo come mi vesto perché poi qualche giorno fa sono andata a ritoccare il tatuaggio quello sulla gamba per finirlo, è quasi finito quindi a breve poi farò anche l'aggiornamento dei tatuaggi e quindi l'ho dovuto tutto impellicolare perché altrimenti insomma andando in giro cose non mi va che ci si attacchino tipo gli aghetti di pino sapete quelle cose lì no? e quindi l'ho impellicolo quando esco, quando sto a casa naturalmente no penso mi metterò un jeans con la felpa adesso vedo anche perché ho un sacco di cose e vorrei farvi anche il video dell'armadio cosa c'è nel mio armadio anzi ditemelo se vi può interessare così lo giro subito praticamente e lo vedrete direttamente questa settimana vi faccio vedere qui dal mio nuovo specchio alla fine ho messo questo che vi ho fatto anche vedere nel video haul che come vedete è tipo enorme e questi jeans qui di Zara questo specchio si vede pure doppio non so se vedete e poi tipo uno stivaletto e dietro c'è mia sorella e ho messo il lupetto back home finally eccolo qui è fa freddo allora devi dirci le tue impressioni che l'avevo promesso paura it capitolo pari no non devi fare spoiler oh c'è il cagnolino che ci viene bellissimo il film andatelo a vedere tanto non fa po' no non fa tanta paura vero no te lo ho fatto se siete come me che non è che ci avete paura però soprattutto tipo vi mettono ansia i pezzi tipo pow così capita dal nulla che dopo un po' ve ne accorgete quando sta per arrivare il pezzo però all'inizio è tipo oddio adesso spunta uno spunta quindi io stavo tipo così a certi punti no? classiche pose però alla fine non fa tanta tanta paura in realtà me l'avevate scritto anche voi su instagram però io ho detto oddio cioè un film così famoso e cose ti pare che non fa paura in realtà farò normal activity the ring tutte queste cose e quelli facevano molta più paura se non ci andate perché vi fa paura potete andarci gli darei un sette forse sei in mezzo devo andare a mettere a posto la make up collection la mattina che mi sveglio che trovo guenda sotto le coperte è molto più paurosa come cosa tra l'altro piccolo spoiler voglio mettere questo con fanetto di l'oreal con bel main che è troppo bello qui devo mettere a posto tutto questo casino questi sono contenitori di aliexpress e qui dentro ci ho buttato tipo di tutto item qui quindi devo mettere un po' a posto tu che cosa sei andata a vedere vuoi dirlo? e non lo ricordo dai come ti ammazzo? come ti ammazzo il bodyguard? con ryan reynos carina adesso mi metto in tenuta casalinga e poi si vola cenetta in compagnia della diretta del gf mi sono scaldata un po' di risola cantonese che è avanzata da ieri anzi me lo sto scaldando perché ci ho aggiunto un po' di salsa di soia e metto la funzione crisp così viene un po' croccandino ok poi ho tirato fuori filadelfia pomodorini e questi che mi faccio due tipo bruschettine con filadelfia e pomodorini io li amo e poi basta per il resto sto ancora truccata sto cercando di sistemare ma mi risulta molto complicato anche perché odio il fatto che i cassettini di Kea quelli trasparenti non coprono tutta la superficie del cassetto e metterli senza divisori mi urta quindi sto cercando di dividerli al meglio mi avanzano tipo un botto di cassetti non so cosa farci non so cosa metterci ora capisco perché gli altri ci hanno sempre messo tipo cose per la skin care eccetera infatti lo farò anch'io molto probabilmente quindi adesso mangio buon appetito ho più o meno finito di sistemare tutto quanto le cassettiere e ho anche riattaccato la televisione anche se i fili li ho messi tutti male però così giusto per mentre mettevo a posto mi vedevo la diretta del GF ora spiegatemi perché il cane è salito sulla scrivania magari puoi andare a scendere anche che dici? ho tolto un bel po' di trucchi però non ho fatto il decluttering non ho fatto nessun tipo di video perché non mi andava proprio di base di voglia ecco e poi sono le 10 si sono fatte e appunto mi vorrei struccare poi ho scaricato i file così domani inizio a montare questi video e devo anche girare le clip madonna visto che stasera appunto non sono riuscita non mi andava poi di salire e prendere la softbox tra l'altro ho anche ordinato una ring light che sarebbe la luce quella circolare proprio fatta da anello per girare i video perché secondo me è molto più comoda la verrei qui in camera le softbox sono una cosa ingombrantissima una mi si è rotta l'ho buttata quindi ce n'ho soltanto una funziona a scatti quindi non so mai se attaccando la presa funzionerà o non funzionerà quindi ho comprato la ring light tanto ne spendi tanti soldi al mese almeno per una cosa che ci serve così spero di riuscire a girarli anche la sera adesso in stanza nuova ho molti più angoli dove poter girare i video prima li giravo sempre davanti alla finestra adesso posso girarli tipo non dico ovunque però più o meno quindi sono davvero felicissima stanchissima ma felicissima perché comunque stiamo dietro a stanza da non vorrei dirvi una cavolata ma sono tipo tre settimane tra pittura smontai i mobili di prima però sono molto molto soddisfatta ripeto quindi con questo vi do la buonanotte spero questo vlog vi abbia tenuto compagnia come tutti gli altri se vi va iscrivetevi al canale se ancora non lo siete così ci vediamo nei prossimi video io vi mando un bacio buonanotte o buona giornata dipende da quando state guardando questo video e vi aspetto al prossimo ciao 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 Grazie.